C'è un angolo velloso, Ceccherini, tocca Flipper e Barak torna protagonista da titolare Parte Barak, con segni tocca ma non basta, doppietta di Barak Contropiede Verona con Kalinic, ricammo per Barak, posizione regolare Barak Scavetto di Antonin Barak, tripletta per lui, il Verona batte il Sassuolo e vince la terza gara in trasferta